La prova del cuoco ricette 20 aprile 2018 oggi andrà in onda, ma con un po' di ritardo. Su Rai 1 potremo seguire la Santa Messa, Papa Francesco e Amolpetta, la città in cui Don Tonino Bello fu vescovo per 11 anni. Subito dopo la celebrazione, arriveranno Antonella Clerici, e i suoi maestri in cucina. L'inizio della prova del cuoco è, previsto per le 12 sempre in diretta. Come sempre seguiremo con voi la puntata di oggi della prova del cuoco e tutte le ricette del venerdì. Ultima puntata della settimana per la prova del cuoco, e non potranno mancare le ricette golose del fine settimana. Chi suggerirà la ricetta del dolce alla prova del cuoco o GG il 20 aprile 2018? L'importante è Che sia una ricetta facile da realizzare. Ci sarà poi la sfida del campanile italiano e tutte le ricette del giorno ma qualcosa dovrà saltare, il tempo è minore per la puntata di oggi, scopriremo chi non ci sarà in diretta in cucina con Antonella Clerici. . Le ricette di oggi 20 aprile 2018 la prova del cuoco troverete come sempre in basso il link della prova del cuoco ricette oggi 20 aprile 2018 complete di foto, ingredienti, passaggi e consigli. . Se invece avete perso la prova del cuoco ricette di ieri 19 aprile 2018 cliccate qui per copiare la ricetta della torta melba di Luisanna Messeri, la ricetta di Gabriel Bonci della pizza ricotta e dentricina, la ricetta della calamrata con melanzane e scamorza affumicata di Natale giunta, la ricetta della calamrata tonno e capperi di Francesca Marsetti. . E la ricetta di Anna Moroni delle seppie in Zimino. . La prova del cuoco ricette oggi 20 aprile 2018, trattino d'Unione, la puntata è iniziata poco prima delle 13, con più di un'ora di ritardo, trattino d'Unione, la prova del cuoco oggi delude parte del pubblico. Qui cosa non abbiamo potuto vedere stampa. . . .